Bene, grazie, grazie Damien. Damien, non faccio commenti, mi sono preso un sacco di punti, però evito, non voglio rubare il tempo al parterre, al tavolo che abbiamo qua, perché abbiamo poco più di un'ora, guardo con un'ora e un quarto, voi siete in sette seduti qua, abbiamo dieci minuti l'uno direi e casomai dopo proviamo a vedere se si fa un altro giro. Damien ha fatto un'interessantissima relazione portando qui il punto di vista e come vede il futuro, forse il principale stakeholder che opera sull'argomento. Però c'è un altro che è ugualmente importante, Agid, a cui la norma ha dato il compito di coordinare il lavoro di pianificazione su queste tematiche. Abbiamo due rappresentanti di Agid, abbiamo il dottor Bani e poi abbiamo la dottoressa Massella, quindi chiederei a loro di descrivere, di dirci cosa pensa Agid al di là dell'intervento sulla scuola, perché scuola è un pezzetto, ma sappiamo che sul tema del digitale gli attori coinvolti, i soggetti coinvolti sono plurimi, sono le istituzioni, il mondo dell'offerta, sono i consumatori. Insomma, Marco a te la parola. Sentite ora? Sì, ora meglio. Sono Marco Bani e nonostante tutto Agid vive e lotta insieme a voi, quindi fate affidamento di noi anche in futuro. Anche perché comunque le persone passano, però le istituzioni restano. Io mi riallaccio anche alla relazione che ha fatto Damien, che oltre a condividere anche una certa età, condividiamo anche gli intenti e le finalità di lavorare insieme per portare avanti quelli che sono obiettivi comuni. Agid in sé non vuole sovrapporsi a ministeri, non vuole sovrapporsi a associazioni, non vuole sovrapporsi ad altri enti, ma vuole cercare, come ha detto anche Renzo nell'introduzione, di elaborare, pianificare, creare connessioni fra i vari stakeholders, fra i vari attori, fra i vari istituzioni che portano avanti finalità comuni, con l'ambizione, questa sì è un'ambizione un po' elevata, di creare poi un paese più dinamico, un paese più snello e alla fine anche forse quello che è più necessario, un paese più semplice. Vedete, Agida ha tanti progetti, fa tante cose, fa tanti tasselli che poi devono portare a un mosaico più ampio, solamente alla fine poi si vede qual è il risultato finale, ma sicuramente uno di questi tasselli è competenze digitali. In questo minuto, quando ho parlato, ho fatto questa introduzione, ci sono state 48 ore di video caricate su Youtube, 200 milioni di nuovi email, 100 mila tweet, 2 milioni di richieste su Google, 700 mila utenti hanno postato qualcosa su Facebook dalla foto del gatto a un video sulla Siria. E vedete, questo vuol dire che non è un problema di produzione, ma è un problema di cosa si produce, cosa facciamo con tutta questa nuova disponibilità di mezzi che abbiamo. Come incanalare questa forza, questa grande capacità di comunicare e metterla al sistema e farla diventare quello che è un surplus cognitivo, quella che è un'intelligenza e renderlo davvero capace di creare quei fattori, quella forza che ci permette di andare poi verso una socialità migliore, una vivibilità migliore. Oltre a questo anche il fatto di avere a disposizione tramite il nostro smartphone quello che solamente 15 anni fa era impensabile avere a disposizione in maniera immediata. C'è una citazione di un libro che si chiama Abundanza, dove segnala che adesso un guerriero della tribù Masai, quindi considerato qualcuno che ha ancora tanto da imparare, ha a disposizione le stesse informazioni che aveva Bill Clinton nel metà degli anni 90 attraverso il suo team di super esperti, la sua agenzia di intelligenza e altro. Oltre a questo, quindi a livello di controllo e comunque di promozione di quello che viene prodotto, per noi sono fondamentali le competenze digitali anche per una questione infrastrutturale. Un dato Istat di dicembre del 2014 segnala come la maggioranza delle persone che non ha internet ancora in Italia, e sono tante, sono 22 milioni, questa maggioranza delle persone non ha internet non per problemi economici o altro, ma per problemi di competenze digitali. non prende internet, non ha voglia, non sa, non conosce, questo sta a noi capirlo e cercare di rimediare con delle policy più accurate. E quello che mi spaventa di più è che, sempre nello stesso rapporto Istat, il 50%, e questo è un po' un ribaltamento di uno stereotipo che abbiamo, il 50% dei cosiddetti nativi digitali, quindi la fascia venera chiusa fra i 6 e i 10 anni, il 50% non ha internet. Questi sono dati che comunque restano abbastanza sorprendenti. Quindi se dal lato cittadini, e dal lato infrastrutture, perché non si parla tanto di banda larga, ma poi se la competenza è stretta, non andiamo da nessuna parte, è anche un problema di crescita, quindi non solo un problema sociale di infrastrutture, ma un problema di crescita economica. C'è un dato che con l'industria sempre rilancia, è che è drammatico, l'84% delle imprese che sono fallite l'anno scorso, non aveva un sito internet. Oppure siamo indietro rispetto alla media di imprese che hanno servizi di commerce, siamo solo il 4% delle nostre imprese a servizi del genere, si presenta quindi al mondo, con tutto quello che invece possiamo dare, possiamo offrire, c'è davvero un potenziale enorme. E qual è il problema? Il problema di formazione degli imprenditori? È un problema di affiancamento di imprenditori, di personalità che hanno una professionalità sull'innovazione? Questo sta a noi capire e adottare le policy migliori per affrontare. Quindi in questo tassello, che per noi è fondamentale, abbiamo cercato di lavorare al meglio per il nostro ruolo che abbiamo, diciamo che con il nuovo direttore, ma riprendiamo un percorso iniziato, portato avanti dagli uffici dei Diagid, che hanno ripreso un'iniziativa europea, che si chiama Grand Coalition for Digital Jobs, lanciata nel 2013 dall'ex Presidente Barroso, nata soprattutto per cercare, come diceva anche Damini, in America sta facendo Obama, a cercare di colmare quel gap tra formazione e professionalità. Barroso diceva che in due anni ci sarebbe stata richiesta di un milione di posti di lavoro nel campo dell'ICT e quindi cercava di promuovere una coalizione, un insieme, di far lavorare il più possibile stakeholder pubblici e privati con lo stesso obiettivo di aumentare queste professionalità. Ecco, noi abbiamo ripreso questo percorso, non abbiamo voluto assolutamente fermare, anche perché l'impostazione di unire e di mettere insieme più attori è sicuramente fondamentale per la buona riuscita di ogni piano. E quindi abbiamo allargato questa Grand Coalition for Digital Jobs e invece di lasciarla solo con questo obiettivo, abbiamo rilanciato la coalizione con obiettivi più ampi, che comprendesse soprattutto i tre ambiti della società, che sono pubblica amministrazione, cittadini e imprese, invitando nuovamente coloro che erano dentro già la coalizione precedente a far parte anche di questa nuova e sviluppare anche quelle che sono una strumentazione operativa, cercare davvero di capire come dalle policy che i ministeri, che la presenza del Consiglio, ma che anche le varie associazioni fanno, poi questo si possa tradurre in progetti concreti. Abbiamo quindi creato questa strategia competenze digitali ad Agid insieme agli altri attori, che è una costola del documento crescita digitale 2014-2020, che è stato approvato a inizio marzo dalla presenza del Consiglio dei Ministri e che vede competenze digitali un forte pilastro, è addirittura considerato un programma di accelerazione insieme a Smart Cities ed altri programmi di questo genere, proprio perché si capisce l'importanza di lavorare su questo tassello. E questa strategia per gli occupanti digitali, ma non è un altro documento, quindi non mi suggerirò di leggerlo altro, è solamente uno dei punti obiettivo per dire, bene, cosa facciamo ora? Facciamo una coalizione e abbiamo appunto quasi 100 membri tra grandi stakeholder pubblici come il MIUR, come il Ministro della Difesa, il MISE, anche grandi stakeholder privati come Google, Samsung, abbiamo associazioni di categoria, quasi tutte, credo che quasi tutti i membri di questo tavolo ne fanno parte, proprio per iniziare a far capire, a far comprendere che solamente uniti possiamo portare avanti degli obiettivi comuni e cercare anche di ribaltare quegli indicatori che sul palcoscenico europeo e il palcoscenico internazionale ci vedono purtroppo spesso negli ultimi posti o almeno sotto la media. Ma è un problema di percezione, è un problema di non riuscire a integrarci, è un problema di rischiare di non connetterci al meglio. Ecco, questo è un po' il nostro, proviamo, questo esperimento che abbiamo lanciato e abbiamo anche in settimana c'è stato un rilascio pubblico di una piattaforma per le copie anti digitali che anche se il nome è ormai abusato vuole essere non un sito vetrina dei progetti che vengono fatti sul territorio e sull'argomento ma vuole dare un input, uno stimolo a unirsi, a creare sempre più iniziative, sempre più azioni che hanno degli indicatori mirati e che poi possono concorrere davvero a far capire una fotografia di quello che si muove a livello di competenze digitali in Italia. Lo potete vedere benissimo è su competenze digitali.agid.gov.it quindi non sto nemmeno a continuare a raccontare se poi di impatto lo vedrete. L'idea è appunto di dare visibilità a questa sinergia. Poi ci sono altri strumenti ma credo che ne parleranno altri a questo tavolo che stiamo portando avanti in questo spirito di collaborazione essenziale e fondamentale. anche perché e qui conclude cerco di prendere tempo anche per gli altri relatori quello che alla fine Agido vuole fare è essere un po' uno strumento per far respirare le politiche di competenze digitali essere un po' il polmone quindi cosa fa un polmone? Cerca di prendere l'aria l'aria da tanti input da tante parti le elabora e poi le rilascia in maniera si spera pulita il più pulito possibile. più l'aria che si respira è più pulita più che l'aria che si mette sarà buona e qui si respira un'aria freschissima. Grazie. Grazie Marco c'è un punto che volevo un po' riprendere perché mi è piaciuto al di là di tante cose che hai detto però c'è un punto secondo me che è rilevante perché può aiutare questa per il tuo ripreso il discorso sulla sulla caratteristica un po' bifronte del ritardo digitale che abbiamo abbiamo un ritardo digitale che è fatto soprattutto sul fronte delle competenze che riguarda molti degli stakeholder che abbiamo tutto il mondo dell'offerta però non è solo quello il problema l'hai detto bene tu il problema non è solo che ci mancano gli specialisti il problema è un problema di conoscenze diffuse basse il ritardo che registriamo sul fronte dell'utilizzo di questi strumenti è devastante siamo 10 punti meno tutte le statistiche sono più o meno concordi le possiamo leggere in un verso nell'altro verso ma non si scappa abbiamo un ritardo molto forte diciamo di propensione a queste tecnologie non direi neanche di competenze ma quasi di propensione probabilmente è un problema più sociologico che altro sicuramente c'è un problema di scuola sicuramente c'è un problema ma sicuramente c'è anche un problema di lingua lo diceva prima qualcuno questa mattina qualcuno l'ha detto chiarissimamente c'è un problema di cultura di questo paese che non è una cultura tecnologica quindi abbiamo il problema delle competenze un problema fatto di quasi di sociologia quasi di domanda e poi un problema invece vero un problema di offerta un problema di competenze specialistiche due fenomeni qualche tempo fa c'era un rapporto che veniva non lo so l'ho letto su un rapporto forse commissione europea parlava di questa interazione una bassa una cattiva domanda una domanda poco qualificata chiede poco e fa poco da incentivo allo sviluppo di competenze specialistiche e viceversa perché un'offerta bassa produce servizi di cattiva qualità che invogliano poco la domanda e ingaggiarsi sul terreno digitale chiederei su questo è un terreno interessante perché questo è un ragionamento che ci può aiutare per capire per mettere a fuoco quali sono le priorità su cui intervenire perché se questo è il problema il problema è sia segmentato che un problema generalizzato come si fa a affrontare questo bubone probabilmente bisogna spaccare il problema a pezzi il lavoro che sta facendo Agide in questi mesi è un lavoro importante che ha fatto di coordinamento di messa insieme di punti di vista di tutti i punti di vista di tutti coloro che operano serve a ricostruire questa mappa allora chiederei ad Enrica Masella se può e se ha voglia di continuare su questa traccia grazie certo mi riallaccio sicuramente a quello che ha detto prima Marco per dare anche un altro punto di vista che si sta portando avanti nell'ambito dell'agenzia tutte le iniziative comunque nascono da quello che è l'impegno che ha assunto l'agenzia impegno che gli è stato dato dalla presidenza del consiglio legato all'attuazione della strategia della crescita digitale questa è una strategia che è legata soprattutto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione quindi cercare di modernizzare la pubblica amministrazione che in questo modo può fornire servizi che siano più semplici per i cittadini e le imprese è chiaro che non si possono fornire servizi se un'amministrazione alle spalle non ha un back office che funziona come dovrebbe essere con delle soluzioni innovative che siano in grado tra l'altro di fornire delle risposte non necessariamente come siamo abituati nel passato con strumenti e con canali tradizionali ma ormai sempre di più la pubblica amministrazione si deve aprire a tutti quelli che sono i canali utilizzati quindi al mobile ai social a qualsiasi sia il modo per riuscire a raggiungere i cittadini e le imprese così come loro chiedono è indubbio che questo back office però comporta il fatto che al di sotto ci sia anche una corretta gestione dei documenti documenti che sempre più sono documenti informatici non dobbiamo dimenticarci quelli che sono tra l'altro i progetti cardine che sono legati a questa strategia digitale e sono uno fra tutto è l'anagrafe nazionale della popolazione residente che è un modo per riuscire a raggiungere il singolo cittadino c'è poi il progetto che ormai è diciamo in fase di chiusura della fase iniziale d'avvio perché ormai tutte le pubbliche amministrazioni si sono avviate verso quella che è la fatturazione elettronica nei confronti della PIA a questo discorso dei servizi si deve legare anche la questione della possibilità che i servizi possono essere pagati online quindi è tutto una una cornice che si viene a creare intorno a quello che dovrebbe essere l'immagine di una amministrazione moderna e innovativa è anche in dubbio che dicevamo al di sotto comunque ci deve essere anche una corretta gestione di quelli che sono i documenti informatici e qui mi riallaccio alla questione che ci andava prima Renzo e cioè il fatto che bisogna stare molto attenti a quelle che sono le domande e le offerte che vengono date in questo specifico momento e quindi in particolare mi riallaccio ad esempio a quello che sta avvanendo per quanto riguarda il discorso della conservazione dei documenti informatici perché noi stiamo continuando a generare documenti che però poi non sappiamo come mantenerli poco in un momento uno può non pensare a questo dicendo va bene li appoggio sul mio pc in qualche modo farò in realtà se poi poi vogliamo andare a vedere quelli che sono anche tutti gli aspetti legali legati a una corretta gestione di questi documenti è necessario che si arrivi a un approccio più strutturato del documento stesso e quindi tra l'altro questo è anche richiesto dalla stessa Europa perché col nuovo regolamento EIDAS che è stato pubblicato di recente che entrerà in vigore nel 2016 in realtà questo regolamento richiede che si vada verso quelli che sono definiti i trusted services quindi dei servizi di qualità dei servizi fiduciari che la pubblica amministrazione per prima deve richiedere nel momento che domanda al fornitore di fornirgli una soluzione per quelli che sono i servizi che deve erogare legato a questo quindi ci sono anche tutte le fasi che possono esserci per quanto riguarda l'accreditamento dei soggetti che offrono i servizi di conservazione e proprio nell'ambito della conservazione nell'accreditamento l'agenzia per l'italia digitale ha individuato quelli che devono essere i profili professionali necessari nell'ambito di un sistema di conservazione e quindi anche qui ci rialdiamo a quelle che sono le competenze specialistiche di cui si ha necessità già da oggi che sono legati ad esempio alla figura del responsabile del servizio di conservazione piuttosto che al responsabile della sicurezza di questi sistemi perché chiaramente per poter avere dei servizi fiduciari è anche necessario che questi servizi siano forniti da soggetti che offrono idonee garanzie di qualità e di sicurezza e quindi sono queste delle nuove figure che si stanno delineando come necessarie per una corretta gestione del back office di una pubblica amministrazione che tra l'altro nell'ambito Uninfo stiamo vedendo come poterle definire come profili professionali proprio per riuscire a dare ancora maggiore enfasi a questi ruoli stessi io mi interromperei che ho visto i tempi stretti grazie parlare i responsabili delle istituzioni che siedono sul tavolo della programmazione che curano gli interventi sul tema delle competenze digitali però ovviamente un pezzo della storia ce la devono raccontare gli operatori chi sta sul campo chi rappresenta le imprese qui a questo tavolo abbiamo tre rappresentanti del mondo delle imprese abbiamo il rappresentante abbiamo Antonello Busetto di Assinform abbiamo il dottore di Assintele abbiamo poi Patini di Confindustria Digitale e Erigoni poi ovviamente il mondo delle imprese pubbliche io chiederei loro in questi mesi hanno svolto un ruolo importante nel tavolo attorno a cui si è discusso di competenze digitali io lascerei la parola in questo momento ad Antonello Busetto che con e chiederei Antonello di raccontarci come lui vede questo problema se partono le slide riusciamo anche a fare meglio allora io parto da una domanda che vi ricorda? l'Expo Fochino mandi avanti non è Expo è il digitale il digitale l'energia per l'innovazione e il nutrimento per la crescita noi abbiamo sintetizzato in questo modo ammiccando un po' ad Expo quello che per noi significa la rivoluzione digitale il digitale come strumento il digitale come veicolo il digitale come cultura oggi qui si parla di questo aspetto questo è il titolo del nostro prossimo convegno che faremo in Expo forse se parte e abbiamo voluto proprio declinarlo in questo modo per sottolinearle l'estrema importanza per noi il digitale vuol dire tante cose ma essenzialmente vuol dire quattro questioni una di queste è l'education le altre sono le imprese le pubbliche amministrazioni e le tecnologie abbiamo sintetizzato tutto quello di cui stiamo parlando quattro cose education tecnologie pubbliche amministrazioni e imprese allora qui dentro in questa slide ci sta quello che abbiamo detto quando Confindus ha fatto l'audizione recentemente sul DDL 2994 che è quello per la riforma diciamo dell'istruzione della formazione e leggo testualmente Confindustria quindi parlo a nome della casa madre dove ovviamente noi di cui facciamo parte questo è un pezzo dell'audizione considera molto positiva la previsione all'articolo 5 innovazione digitale didattica laboratoriale che contiene la DL Galmiul per elaborare il piano nazionale scuola digitale si tratta di un piano di fondamentale importanza sia per garantire la giusta dotazione infrastrutturale alle scuole sia per la formazione dei docenti e degli studenti verso le competenze digitali una scuola più digitale aiuterà i giovani a comprendere meglio i processi di cambiamento ed evoluzione delle nuove tecnologie ma anche le amministrazioni scolastiche a semplificare e sdendire procedure burocratiche complesse olerose significativa altresia la previsione di collaborazioni scuola-impresa è già stato detto più volte questa mattina per lo sviluppo delle competenze digitali qui c'è effettivamente la sintesi di quello che è il problema la sintesi di quelle che sono i percorsi che deve fare un cittadino che domani sarà un cittadino lavoratore per essere al passo con i tempi quindi affinché l'Italia sia un paese moderno un paese avanzato uno dei G8 si diceva una volta e noi vorremmo riconoscerci ancora in questo valore purtroppo stiamo faticando un pochettino noi in Confindustria ne sappiamo qualcosa però effettivamente dobbiamo giocarci la partita della competitività non mi vanno avanti le slide non capisco come mai è un po' lento questo pc è digitale ecco qua allora per misurare lo stato di avanzamento di questo fenomeno con i colleghi Andrea e Luca abbiamo l'altro anno pubblicato insieme con Agid vedete in alto i soggetti che hanno fatto questo lavoro abbiamo pubblicato il primo osservatorio sulle competenze digitali perché ci siamo resi conto tutti noi lato imprese quindi Confindustria Confcommercio Assinter che era AICA da quest'anno c'è anche AICA ringraziamo per l'attenzione e per la partecipazione siamo resi conto che è un tema fondamentale uno dei quattro pilastri dello sviluppo di cui parlavo all'inizio quest'anno pubblicheremo questa è il la copertina diciamo così del nuovo rapporto il nuovo rapporto ma forse ve ne parleranno anche i colleghi se non ricordo male come ci siamo divisi un po' i compiti per l'intervento oggi pomeriggio certamente questo dovrà aiutare a superare i problemi che abbiamo grazie Marco dal punto di vista dal punto di vista del diciamo della situazione del ranking che i paesi utilizzano per misurarsi per confrontarsi come vedete ma è già stato detto stamattina l'Italia è in difficoltà è in difficoltà è in difficoltà ma perché in difficoltà per tanti motivi uno di questi eppure forse il fatto che noi non riusciamo dal basso a creare competenze che sono competenze che poi vanno a lavorare nelle imprese nelle pubbliche amministrazioni nelle scuole andiamo avanti di una e noi l'abbiamo misurato anche e lo presenteremo nel prossimo rapporto Assinform come questo fenomeno ci stia penalizzando però finalmente cominciamo a vedere qualche segnale di ripresa e quindi il profondo rosso che ha regnato negli ultimi anni finalmente torna lì è in verde io dico in positivo e quindi noi ci aspettiamo che effettivamente il paese Italia che ha fatto un po' di fatica è arrivato un po' in ritardo nel capire l'importanza della digitalizzazione delle imprese delle pubbliche amministrazioni delle famiglie dei cittadini che possono appunto trarre dagli studenti dei professori possono trarre vantaggio finalmente sembra recuperare nel report questa bella risparmio sviluppiamo tutta una serie di considerazioni per capire che cosa dobbiamo andare a misurare che cosa dobbiamo vedere che cosa serve perché misuriamo le competenze digitali le competenze digitali noi le misuriamo perché sono posti di lavoro se vi comprate il sole 24 ore di lunedì troverete una serie di offerte noi abbiamo fatto una domanda ai nostri associati ma che vi serve allora voi troverete che Alma Viva ha bisogno numero di profili professionali e numero di addetti che assumerebbe ieri allora c'è una crisi occupazionale ma ci sono tantissimi posti di lavoro liberi per le nuove professioni le nostre imprese non li trovano è per questo che noi con Agid stiamo facendo una gran fatica con il mio proprio per dire ma se noi non abbiamo un approccio bottom up e quindi fondiamo creiamo le fondamenta di una società più moderna faremo sempre una gran fatica e quelle classifiche che ci vedono indietro saranno sempre fatte in quel modo quindi noi attraverso l'osservatorio cerchiamo di misurare qual è la situazione qual è l'andamento della domanda qual è l'andamento dell'offerta e diamo anche ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti alla politica quindi al governo all'Agid a quelli che sono gli organi istituzionali che poi devono creare le condizioni affinché la situazione possa migliorare noi peraltro abbiamo proprio ah ecco grazie abbiamo anche uno steering committee proprio che si occupa di questa di questa materia e come vedete abbiamo fatto alcune proposte le abbiamo riassunte Agid sa benissimo perché le abbiamo presentiata le abbiamo discusse anche con con il Biur obbligatorietà della formazione digitale non è più rinviabile questa cosa il maestro Manzi di vecchia memoria ha dovuto alfabetizzare la popolazione italiana quando bisognava saper leggere e scrivere adesso non basta saper leggere e scrivere bisogna avere una competenza digitale in qualsiasi situazione quindi una partenza dal basso peraltro Confinus si è fatto recentemente un accordo con la RAI per rilanciare diciamo mutatis mutandis un sistema di formazione subliminale per il digitale non è come non è mai troppo tardi mi pare si chiamasse quella trasmissione del maestro Manzi ma pure attraverso quel medium noi cerchiamo di portare un contributo verso la cultura digitale poi piattaforma nazionale cloud aperta sui contenuti scolastici vi parliamo di scuola e di quello che deve essere veicolato guardate che la scuola non vuol dire la lim il pc il tablet o l'aula organizzata in modo tecnologico vuol dire poter insegnare il greco antico con le tecnologie digitali con un approccio digitale è quello che noi dobbiamo cercare di fare con il miur abbiamo una mi pare che ne ha parlato anche Damian su questa partnership che dobbiamo sviluppare e abbiamo un progetto garazia giovani con il ministro Poletti insomma una serie di iniziative che secondo noi dalla parte delle imprese devono dare un contributo per sviluppare maggiormente questa coscienza della conoscenza ecco perdonatemi il gioco di parole questa slide la troverete nel sole 24 ore di lunedì questa è la fotografia di quelle che sono l'occupazione nel nostro settore allora ci sono dei segnali positivi e dei segnali negativi allora come vedete c'è un calo abbastanza forte nel riquadro verde quello delle telecomunicazioni dove ovviamente la quantità di manodopera passatemi il termine di occupati è in calo perché le comunicazioni stanno vivendo un fenomeno di trasformazione per cui serve sempre meno manodopera il segnale positivo invece la crescita che c'è la richiesta e la crescita che c'è nei riquadri rosso quindi il software tipicamente e nel riquadro anche violetto cioè quello dei servizi quindi luci o d'ombre noi vediamo essenzialmente le luci in questo momento dopo tanti anni di ombre speriamo che sia la volta buona ce l'auguriamo tutti quanti quindi di nuovo digitale energia per l'innovazione nutrimento per la crescita applausi 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 era molto tempo che non si sentiva in un luogo pubblico parlare e dire qualcosa di positivo sul settore dico mi prendo nota perché era un po' di anni che registravamo solo segnali negativi e lo stiamo tornando verso il positivo è quello che ci aspettavamo si sapeva che stava arrivando tu confermi un trend che c'è i segnali sono ancora ovviamente il panorama non è un panorama stabile è ancora molto incerto stiamo parlando di qualche segno però lo faccio presente a tutti perché adesso chiederei al dottor Ardizione il punto di vista di una associazione di categoria parallela a Sintero buongiorno a tutti grazie per l'invito il suo artizione è il lavoro in Asintel l'Asintel si è una associazione parallela di Asintel diciamo che è l'altra parte del mercato dell'offerta se vogliamo suddividerlo in due grandi gruppi la grande impresa dell'offerta piuttosto che la piccola media impresa sul territorio quella capillarmente presente sul territorio ecco quella piccola media impresa è rappresentata da Asintel noi siamo attenti a questi fenomeni da anni da parecchi anni confermiamo anche noi questo fenomeno intendo quello delle competenze digitali quello della formazione quella dell'allineamento delle competenze scolastiche dei giovani alle richieste delle imprese io vi ruberò qualche minuto avendone prestati alcuni dei miei dieci ad Antonello ma d'altra parte era giustificato visto lo show che ha fatto è stato veramente molto interessante il modo in cui anche l'ha detto confermiamo anche noi dal nostro osservatorio Asintel il fatto che il mercato in effetti dia dei segnali di positività e quindi questo giustifica a maggior ragione il nostro essere ottimisti è da leggere questa positività anche noi dichiaravamo a ottobre un segnale quasi vicino all'1% positivo ma è fatto in effetti da una crescita quasi a due digit di quella che è considerata sono considerate le soluzioni in ambito di economia digitale e una continua decrescita di quella che è l'information technology tradizionale quindi questa lettura a noi serve per dare i giusti indirizzi dare i giusti suggerimenti alle imprese che sul territorio si occupano di tecnologia e degli investimenti che devono effettuare per cambiare il modo di operare o l'approccio che hanno sul mercato perché si devono indirizzare veramente a risolvere problemi di natura digitali delle imprese questo si riflette inevitabilmente anche nei confronti delle risorse umane di cui hanno bisogno quindi io credo che la chiave di lettura che noi oggi dobbiamo dare come rappresentanti di imprese in un contesto come quello odierno sia quello di evidenziare il fatto che chiamiamolo skill shortage come era chiamato qualche anno fa chiamiamolo mismatch come adesso si usa dire questo fatto del disalineamento della non adeguatezza delle competenze dei giovani delle loro caratteristiche delle loro conoscenze ai bisogni delle aziende è un fenomeno veramente molto sentito io credo che Almaviva nel definire chi sono i profili professionali di cui ha bisogno chiederà che siamo giovani che sappiamo l'inglese abbiamo competenze digitale e abbiamo un'esperienza di 15 anni perché molte volte le aziende si trovano di fronte al fatto di chiedere gente giovane fresca fortemente digitale ma poi abbia anche 15 anni di esperienza perché deve unire una serie di competenze è cambiato completamente il mondo cosa ha fatto Asintel di concreto il primo intervento del dottor Turato si concentra sulla concretezza e oggi credo che l'abbiamo dato evidenza noi come associazione come strutture enti pubblici abbiamo dimostrato voi che ci stiamo lavorando con degli obiettivi da raggiungere Antonello ha anticipato ha detto in maniera fantastica lo sforzo che stiamo mettendo sul campo per la realizzazione di un osservatorio permanente osservatorio delle competenze digitali qualche anno fa Asintel lo realizzava autonomamente ha voluto farlo insieme ad altri amici perché solamente compatti uniti riusciamo probabilmente a portare avanti certi messaggi ai tempi noi lo chiamavamo osservatorio dei profili professionali qualcuno di Aicas lo ricordo lo facevamo insieme non è banale la differenza tra profili professionali di competenze ma chiave di lettura completamente diversa ci ha aiutato in questo cambiamento di approccio l'aver adottato un framework a livello europeo di cui oggi non ho ancora assistito a parlare ma credo che sia importante doverlo mettere a fatto comune che è quello delle CF qual è l'obiettivo o cosa sottende questo tipo di ragionamento l'adottare a tutti i livelli dal mondo della formazione al mondo delle imprese al mondo dell'offerta e della domanda un framework di riferimento vuol dire in poche parole cercare di adottare un linguaggio comune è un vocabolario che ci consente di capirsi in modo tale che tra imprese offerte domanda si capisce che profilo o che competenza io ti metto a disposizione e tu riesci ad acquisire ma anche col mondo scolastico io più facilmente riesco come impresa a dichiarare di che cosa ho bisogno per affrontare il mercato del domani e la formazione il mondo della formazione automaticamente deve allinearsi a questo tipo di linguaggio quindi l'osservatorio delle competenze digitali ha questo obiettivo analizzare il mercato analizzare le tendenze e sviluppare questo genere di approcci allora oggi l'annuncio che volevo fare o comunque la comunicazione che volevo darvi era di massima concretezza per lo sforzo che il nostro mondo delle imprese ha realizzato in questi ultimi mesi grazie a un lavoro ritengo da parte degli imprenditori che fanno parte di Assint un lavoro veramente molto oneroso ma che darà spero grande soddisfazione ecco uno dei contratti più utilizzati nel mondo delle imprese è il contratto del terziario che lega l'imprenditore l'imprenditoria il mondo datoriale ai lavoratori della propria organizzazione oltre al metalmeccanico sono due pilastri di maggiore utilizzo il 30 marzo dopo mesi di liturgie e di caprici tra il mondo datoriale e il mondo dei sindacati e dei lavoratori il 30 marzo è stato siglato un rinnovo del contratto che quindi mette a disposizione uno strumento di lavoro importante rinnovato in molte parti in molti articoli per milioni di lavoratori ed esiste una sezione specifica che è l'articolo 100 bis l'articolo 100 bis consente una nuova classificazione cioè illusa una nuova classificazione del personale per le imprese che si occupano di formation technology sia il metalmeccanico che il terziario sono contatti nati molti anni fa che non considerano ancora non consideravano il mondo dell'information technology provate a pensare che nella classificazione precedente a marzo quindi la versione precedente nel nostro contatto avevamo ancora come classificazioni i perforatori di schede che credo non sia esatto ma quello che è importante è che questa nuova classificazione dei profili professionali noi abbiamo inserito una chiave di lettura nuova che è quella delle competenze secondo le CF cara azienda costruisciti il profilo professionale che serve alla tua impresa inseriscilo in una livello retributivo nell'organizzazione l'inquadramento secondo certe indicazioni che ti do il profilo lo costruisci mettendo insieme i mattoncini di competenze caratteristici delle CF voi sapete che le CF è alla base anche di una norma un'info una norma uni per la figura del professionista dell'informatica quindi è un cambiamento epocale all'interno di un contratto di lavoro importante come quello del terziario l'auspicio che noi facciamo che venga ripreso anche da altri firmatari di contratto perché questo significa veramente sensibilizzare le imprese a vedere in un'ottica innovativa i lavori innovativi con ricadute sicuramente importanti sul mondo della formazione che a questo punto gioco forza si deve allineare io penso che con questa informazione di avervi passato una notizia importante e spero di grande soddisfazione benissimo grazie dottor artizzone volevo solo segnalare una cosa perché la seconda volta tra l'altro io non c'ero ieri però questo tema del mismatch nei processi di entrata mi pare sia un tema che emerga con forza notate bene che è un tema che contraddice i dati dello scoreboard dell'agenda digitale europea quello scoreboard ci dice che il nostro panorama dell'occupazione è un panorama a basso contenuto IT a basso contenuto di tecnologie digitali i nostri occupati il 30% dei nostri occupati vi ricordo dichiara il 35% il 36% dice di usare regolarmente strumentazione ICT quando lavora il fatto che nei nuovi processi di entrata ci sia invece i nuovi processi trovino un vincolo sulla disponibilità di manodopera qualificata sembrerebbe dimostrare che la nuova offerta la nuova domanda di lavoro è una domanda di lavoro con contenuti digitali diversi dal passato questa cosa introduce bene Franco Patini Confindustria Digitale ha già parlato di ECF lo conoscete il paladino è stato ed è stato il paladino di ECF in questi anni quindi lascio a lui la parola paladino di ECF anzi a questo proposito un pensiero a una persona che è venuta a mancare tre giorni fa Clementina Marinoni molti di noi l'hanno conosciuta è stata veramente ci ha lasciato in modo inatteso ci ha lasciato sgomenti non si può parlare di ECF senza un pensiero a Clementina Marinoni è difficile allora io semplifico perché a me viene bene semplificare non so se perché sono semplice o perché mi viene bene vorrei ritornare a studio ergo lavoro e partire da un concetto che credo tutti condividiamo e poi trarre qualche conseguenza il concetto in cui che credo tutti condividiamo è che nel passaggio da un ragazzo che esce dalla scuola o dall'università ed entra nel mondo del lavoro dovremmo avere uno scenario fatto nel seguente modo non è così ma credo siamo tutti d'accordo a tendere tutti i ragazzi qualsiasi percorso di studio escono appunto dalla scuola o dall'università ed entra nel mondo del lavoro dovrebbero dividersi in due categorie una piccola e una enorme quella piccola che definirei fascia nera come se parlassimo di judo sono quelli che faranno gli specialisti dei sistemi digitali cioè quelli che li realizzano i tecnici che badate bene ve lo dico senza non so se i miei amici rappresentanti delle imprese mi contraddiranno tendenzialmente tenderanno a diminuire e noi ci illudiamo cioè il mercato degli specialisti veri e propri i grandi specialisti tenderanno sempre di più a diminuire e questi sono la fascia nera tutti gli altri mi verrebbe da dire 50 sfumature di grigio tutti gli altri ragazzi in realtà devono avere conoscenza consapevolezza cultura anche critica dei sistemi digitali e su questo credo che siamo tutti d'accordo non è facile il mondo della scuola conosciamo la sua complessità ma ci dobbiamo sicuramente arrivare noi qui al tavolo abbiamo quattro tipologie di stakeholders che mi sono consentite c'è l'agid che definisce collabora alla definizione delle politiche perché il paese sviluppi culture e competenze digitali ci sono due rappresentanti della formazione il ministro pubblica istruzione e la scuola non ce lo dimentichiamo mai della pubblica amministrazione che pure ha un ruolo sulle competenze digitali importanti c'è l'aica che si è guadagnata questa come dire nell'immaginario collettivo il ruolo di certificatore o validatore di competenze digitali che è un passaggio fondamentale le certificazioni sono sempre più importanti nel percorso di un individuo e poi ci sono le imprese che a questi ragazzi gli danno lavoro incoraggiano la crescita professionale e misurano con l'osservatorio che ci è appena stato presentato misurano la crescita delle competenze ebbene però perché questo sistema funzioni io vorrei e faccio un passetto successivo affermare un principio e guardo l'amico L'Afri che ha presentato benissimo le idee della scuola e dello sviluppo digitale vorrei che immaginassimo questa cultura digitale divisa in due ambiti io sto parlando delle 50 sfumature di grigio ho lasciato da parte i professionisti le 50 sfumature di grigio secondo me devono avere comuni dei fondamenti di cultura digitale e non inseguire tutti tutto le stampanti 3D internet delle cose le grandi tecnologie emergenti come dire seguiamole con estrema attenzione assecondiamole nei poli di naturale evoluzione penso alla robotica a Torino per esempio che è già molto avanti ma garantiamo a tutti le basi e i fondamenti di cultura digitale sui quali poi costruire quelle che una volta si chiamavano declinazioni o curvature a seconda del territorio del tessuto industriale della capacità ricettiva del mercato i fondamenti di cultura digitale non ci dobbiamo inventare niente perché c'è un framework europeo ormai citatissimo che è l'ECF che è efficacissimo non solo per descrivere le competenze dei professionisti ma non va visto in modo riduttivo solo per i professionisti perché le competenze dell'ECF dalle competenze dell'ECF si possono ricavare i fondamenti culturali che servono a tutti non dobbiamo inventare niente in Europa è già stato definito quello che viene chiamato body of knowledge cioè sono i fondamentali dell'innovazione digitale ricavabili dalle CF offribili da offrire a tutti i ragazzi il body of knowledge è un'ottima base di partenza per definire questo corpo di culture e competenze digitali da diffondere a tutti chiudo con un piccolo messaggio a me piace cercare come dire di confrontarmi con chi come dire poi vive in trincea queste cose ho provato a girare a Roma per licei classici e scientifici bene la reazione dei professori dei licei del classico e dello scientifico a questi discorsi è entusiasmante cioè ci stanno chiedendo di cominciare a fare delle sedute come dire pilota di confronto con due scopi uno verificare se la nostra idea di body of knowledge di fondamenti di questa cultura digitale come dire è esaustiva è eccessiva è ridondante sto parlando di sicurezza di privacy di diritto d'autore di semantica del web del business con l'innovazione digitale sto parlando proprio dei fondamenti quindi primo ritorno che ci daranno cito anche i licei il Righi il Pasteur il Giulio Cesare chi è di Roma conosce bene il Tacito un liceo di Anzio una fondazione privata di Milano paritaria allora primo ritorno è la compatibilità la coerenza e la coincidenza di valutazione di essenzialità di questi argomenti tra una proposta di una persona che viene da Marte perché io vengo dal mercato informatico e un preside dei professori di liceo professori di italiano matematica fisica eccetera secondo è delicatissimo come si può immaginare di contestualizzare questo passaggio perché un conto è definire un corpo di cultura digitale è un conto immaginare quali discipline con quale formazione dei docenti quale percorso fare e quale ruolo potrebbe avere il mondo privato che su questo secondo me ha una grandissima responsabilità grazie grazie Franco a questo punto prima di lasciare la parola poi al presidente di AICA per il suo intervento chiederei a Luca Rigoni di 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 darci il suo punto di vista e l'ho tenuto un po' verso la fine perché è vero lui rappresenta il mondo delle imprese rappresenta uno stakeholder importante su questo tavolo però è un mondo delle imprese che sono vicini alle istituzioni regionali e in questo momento le istituzioni regionali quando parliamo di programmazione stanno svolgendo un ruolo fondamentale quindi Luca certamente grande grazie Renzo diciamo lascio agli atti la mia presentazione diciamo nella quale raccolgo peraltro gran parte delle suggestioni dei colleghi che mi hanno preceduto in particolare relativamente ai motivi ai validi motivi perché noi per i quali noi abbiamo dato vita all'osservatorio insieme con le altre associazioni di categoria invece mi piace rispondere alla tua domanda riprendendo una suggestione precedente cioè quella relativa al divario culturale cioè se c'è anche un problema di diverse velocità del paese e se parlare di competenze digitali oggi significa anche superare o intervenire su resistente di carattere sociale culturale e sociale il motivo per cui diciamo esiste Assinter e la seconda commissione permanente dei presidenti e le ragioni di Edevida ad Assinter quattro anni fa tra la delibera i ritratti della delibera c'è anche qualcosa che dice pressa poco per rilanciare le competenze digitali del paese occorre riorientare le competenze pubbliche di settore esistenti quindi io metterò l'accento su questo aspetto molto brevemente perché è il lavoro che stiamo facendo perché stiamo cercando di costruire delle competenze digitali di rafforzare di consolidare di sviluppare competenze digitali in ambito pubblico il quadro però complessivo secondo me ci porta a fare una considerazione non si può ragionare sulle competenze digitali o di competenze digitali senza dirci che paese abbiamo in testa sostanzialmente oggi andiamo verso un paese articolato in due grandi blocchi città metropolitane e aree interne beh non sono la stessa cosa io mi sono piacevolmente con una certa difficoltà confrontato negli ultimi anni porta a porta con i comuni del Trentino sostanzialmente me li sono fatti 217 tutti ho un po' di stanchezza ma mi sono portato a casa anche qualche bella qualche bella conoscenza e ho capito cos'è l'autonomia nelle autonomie per esempio quindi uno degli elementi sui quali lavorare è l'aggregazione della domanda pubblica di innovazione se noi non aggreghiamo la domanda pubblica di innovazione non non decliniamo nessun buon programma a livello territoriale qui le regioni hanno delle responsabilità sì certo le abbiamo tutti anche le regioni hanno delle responsabilità però questo non è un momento uguale agli altri è un momento in cui prendendo atto delle proprie responsabilità c'è una velocità diversa da innescare e allora noi crediamo che in questo quadro anche le società regionali ICT possono avere un ruolo chiave nella spinta in che modo innanzitutto riorientando la propria azione meno fabbriche pubbliche più supporto alle strategie c'è bisogno di supportare le strategie c'è bisogno di declinare strategie nazionali a livello territoriale e c'è bisogno di supportare le regioni in questa azione significa scelte aziendali organizzative nuove diverse significa riorientare le competenze esistenti acquisirle laddove mancanti fare definizione delle politiche fare programmazione accompagnare e qui una delle ragioni per le quali lavoriamo insieme con le imprese è accompagnare il rapporto con i fornitori a livello territoriale cioè quell'incrocio tra esigenze dei territori all'interno dei territori dei sistemi regionali e capacità di orientare l'offerta è una delle chiavi di lettura certamente dei buoni servizi digitali ma è una delle chiavi di lettura nelle quali stiamo costruendo competenze comuni tant'è che Asinter oltre ad aderire all'osservatorio delle competenze sta conducendo all'interno della propria compagine altre due iniziative che per noi sono importanti la prima è quella di ispirarsi ai principi del modello dell'ECF per avere una base diciamo comune di confronto all'interno delle proprie aziende come chiamiamo le attività che facciamo e quali sono le competenze che ci servono questo serve a riorientare anche le piante organiche le nostre organizzazioni i sistemi professionali interni e l'altra azione che stiamo facendo è aggregare o aver iniziato ad aggregare soggetti che si occupano di formazione il Politecnico la Bocconi l'Università la Spisa per le parti di competenza diciamo giuridica la Federico II di Napoli avviando quella che noi abbiamo chiamato l'Assinter Academy che è un accompagnamento del nostro della nostra base professionale verso queste nuove azioni competenze e professionalità chiudo dicendo che la chiave di volta è coprogettare collaborare e sicuramente pubblico privato ecco qui diciamo la discussione sarebbe ci porterebbe forse troppo lontano però credo che ragionare insieme sulle specificità dell'IT in termini sia di competenze necessarie come chiamiamo i nostri professionisti o come li chiameremo e di che cosa abbiamo bisogno ma anche forse di dotarsi di misure più snelle più rapide più flessibili l'IT non è come l'infrastruttura IT o gli applicativi IT non sono la stessa cosa che fare strade eppure oggi le trattiamo allo stesso modo in termini di codice degli appalti questa è un'azione generale trasversale che però ha delle interferenze positive o negative con i ragionamenti che stiamo facendo oggi grazie prima di là allora dottor Lamborghini siamo arrivati alla fine mi pare che abbiamo la discussione ha sollevato un sacco di problemi un sacco di spunti che io ho riempito alcune pagine di appunti e la mia sensazione a sentire quello che è uscito da questa tavola è che di materiale e di spunti su cui lavorare per quello che sarà il lavoro di programmazione da fare da qua i prossimi anni i prossimi mesi perché oramai siamo abbastanza vicini gli spunti ce ne siano tanti e anche sulle citazioni ce ne sono tante io ve ne ricordo qualcuna perché alcune cose non mi sento mi dispiacerebbe proprio non dirle ecco mi è piaciuta molto la parte di Damien Manfred e l'idea di fare un'idea un po' che traspare non so se sia se la dico bene se loro si offendano ma questa idea di fare una sorta di piano regolatore l'idea che la scuola il problema scuola digitale della scuola non lo si fa con i progetti lo si fa facendo intanto regolazione trovando dei denominatori comuni delle regole comuni e anche il fatto il modo in cui al loro interno stanno ragionando su macro aree separando tra competenze infrastrutture contenuti la questione del procurement è venuta fuori secondo tema importante che voglio sottolineare l'hai detto tu l'hai detto anche l'avete detto tutti quanti qua in qualche modo l'innovazione non si compra l'innovazione soprattutto quando parliamo dell'innovazione nel settore pubblico è difficile non si compra quell'innovazione bisogna costruirla assieme la costruiscono i fornitori e la costruisce la pubblica amministrazione e va detta questa cosa su questo lasciatemi dire qualche motivo qualche elemento di preoccupazione ce l'ho pensando a quello che sta bollendo nelle aule parlamentari sul tema dei lavori pubblici non vanno le regole con cui si compra innovazione non possono essere le regole con cui si fanno i ponti cioè il software e i ponti sono cose diverse dobbiamo riuscire a trovare un modo per metterle in piedi e il rapporto pubblico privato non è necessariamente una cosa da contrastare è un rapporto che va regolato ma la pubblica amministrazione io non voglio parlare del lavoro che faccio io però lo sappiamo nelle pubbliche amministrazioni non ci sono capacità tecniche di frontiera tranne ovviamente alcuni importanti e rilevanti casi ma la pancia della pubblica amministrazione è una pancia che non ha grosse competenze terzo tema importante l'ingaggio che vedo e l'importante contributo che possono dare le associazioni di categoria in questo lavoro vedo il lavoro fatto con l'osservatorio ma non mi pare sia solo questo la parte analitica è importante e che in questi mesi sta contribuendo a formare una cultura su cui puoi prendere le scelte ma la parte anche di proposte la parte di mediazione di confronto con chi sta sul territorio con il sistema dell'offerta è una parte importante interessante che crea delle basi importanti per andare avanti infine ultima questione è una questione di nuovo vorrei delle CF perché quella è una semantica il lavoro di programmazione che andiamo a fare il lavoro di programmazione alta il piano regolatore per capirci lì abbiamo uno strumento in più in questi anni si è formato si è lavorato merito a chi ha portato avanti le battaglie questo è un ulteriore pezzetto per andare in questa direzione allora lascerei questo punto l'ultimo intervento un po' conclusivo al dottor Laboghini di AICA che chiuderà questa sessione grazie funziona? sì grazie a tutti ecco volevo esprimere prima di tutto un grande ringraziamento a tutti i partecipanti a questo come AICA questo partecipante a questa tavola rotonda perché veramente ha creato valore aggiunto devo dire che ci ha dato delle cose in più ed è il presidente Turatto l'ha già detto ci sono alcuni stimoli importanti che sono venuti fuori da questa tavola devo dire anche che oggi siamo al termine quasi di due giorni di attività di grammatica ma abbiamo visto tante cose anche ieri anche stamattina direi che è molto ricco questa cosa quindi ringrazio tutti i partecipanti ecco io riprenderei come l'ha fatto anche il presidente Turatto una parola e due parole di Damiano Frey che mi sembra importante lui ha parlato di partnership di necessità che tutti si impegnino in questa fase perché non è una fase tranquilla business qui stiamo qui stiamo rivoluzionando tutta una realtà lavorativa scolastica imprenditoriale istituzionale ed è un momento in cui voi sapete le reti digitali funzionano se tutti i nodi sono attivi se invece abbiamo 22 milioni di italiani che sono fuori da questo discorso hai un bel creare delle strutture innovative hai un bel creare l'identità elettronica ma se 22 non possono usarla cosa facciamo? ne mettiamo in un ghetto questi signori? no dobbiamo cercare di portare avanti tutto il paese in questa stessa direzione sarà una cosa faticosissima però bisogna farlo se no è inutile che ci facciamo delle illusioni che poi diventiamo noi come AIC abbiamo la frequentazione di tanti paesi europei in particolare alcuni dei maggiori paesi europei che si stanno veramente dedicando un impegno politico fortissimo sulla digitalizzazione per creare quella che chiamano l'intelligenza connettiva cioè l'intelligenza collettiva connettiva come si può dire tutti quanti devono essere connessi devono riuscire a dialogare a partecipare a costruire dal punto di vista politico economico sociale come lo volete se non c'è questo siamo fatti non ci muoviamo allora è un discorso che come AIC abbiamo portato avanti da tempo ormai più di 50 anni che si muove in questa direzione ma lavorando credo adesso lavorando insieme per costruire delle regole separato di un piano regolatore anche interessante cioè definiamo delle regole in cui procediamo insieme ma rifiniamole pubblico privato non devono calare dall'alto devono calare devono venire dal basso da tutte le parti abbiamo sentito qui tante esperienze di scuole fantastiche che evidentemente tanti docenti eroici che stanno lavorando benissimo ecco queste esperienze vanno messe in rete vanno collegate altrimenti diventa macchie di leopardo e non riusciamo a procedere ecco questo è il punto allora come AICA abbiamo deciso di partecipare all'osservatorio che è una cosa bellissima effettivamente credo che possa mettendo insieme esperienze di impresa anche sul tema scuola lavoro che è un tema determinante perché se la scuola deve essere integrata col mondo del lavoro le competenze nascono insieme scuola e lavoro l'abbiamo visto oggi in queste giornate se non facciamo questo la Germania ce lo insegna ma anche altri paesi ma dobbiamo farli in maniera particolare noi come Italia perché abbiamo delle caratteristiche particolari e quindi è questo il punto abbiamo partecipiamo come AICA a incontri con l'Agiz con il MIUR con tutti cerchiamo di tenere i contatti con tutte le istituzioni con gli istituti regionali scolastici eccetera ecco il problema è effettivamente di muoversi tutti assieme abbiamo partecipato anche proprio due settimane fa all'audizione del parlamentare sul tema della buona scuola il documento che è stato lasciato lo trovate sul sito AICA a chi lo vuole trovare sostanzialmente ci sono alcuni punti che sono stati sottolineati in questo documento importante proprio per il problema che o ci muoviamo tutti o non ci si muove assolutamente in questo paese non riusciamo a combinare nulla e quindi ad esempio pensiamo alla cittadino digitale il cittadino digitale va aiutato va aiutato non va ucciso pensate ad esempio andare soltanto sul fisco sul sito del fisco sull'Inps con queste richieste continue di password che fanno impazzire anche chi sa già andare su internet ti chiedono prima 16 caratteri poi no bastano 8 eccetera una sola avremo una sola speriamo che ci sia arriverà non so quanti caratteri sarà mille caratteri no sarà semplice semplifichiamo avete anche un ministero c'è anche un ministero delle semplificazioni va bene ecco allora due punti e concludo sul fatto che AICA diciamo trae spunto dalla sua presenza pluriannale in contatto con il mondo europeo con il mondo di chi sta portando avanti già da tempo questi discorsi e cerchiamo di portare queste competenze queste certificazioni anche nel nostro paese cercando di lavorare su tutta la gamma i 5 punti su cui noi abbiamo presentato questo documento all'audizione parlamentare uno riguarda ovviamente il discorso dei cittadini certamente qui si tratta di dare a tutti i cittadini degli strumenti conoscitivi per partecipare attivamente al sistema alle reti digitali il secondo è quello che riguarda la scuola in cui l'informatica non è più o digitale non è una qualcosa che insegna soltanto gli strumenti non basta la conoscenza dello strumento ma ci vuole profondamente la didattica modificata parliamo di computational thinking parliamo di logica parliamo di problem solving non a caso si è avviato un grosso progetto a Colmure sul PPS sul problem solving che è una cosa fondamentale perché i ragazzi per insegnare per capire la matematica non devono impazzire davanti a delle equazioni che non dicono nulla ma devono risolvere dei problemi semplici che poi li portano agli algoritmi ma non è il contrario questo è il punto allora già 18 mila ragazzi sono fatte già prove su queste cose già 18 mila studenti hanno sperimentato con successo questa cosa ma non basta il problema anche degli istituti tecnici oggi ne abbiamo visti tanti mi fa piacere che Franco Batini vi ha parlato dei licei io sono vengo fatto il liceo classico e sono molto contento di averlo fatto però in realtà i licei sono ancora esclusi da questo processo cominciando da non avere nemmeno l'insegnamento in informatica che bello questa cosa qui se vogliamo guardate le statistiche quanti sono i ragazzi iscritti ai licei quanti sono quelli sui tecnici c'è stata addirittura una evoluzione i licei crescevano e i studi tecnici scendevano adesso per fortuna si è un po' modificato per fortuna cominciamo ad avere le famiglie che sono poi alla base di tutta questa nostra sventura digitale perché le mamme insegnano dicono mio figlio non fa l'istituto tecnico deve fare il liceo e poi fare una laurea umanistica basta con il discorso tecnico questa è un'altra cosa che credo che Damian Alfred deve cercare di cambiare fate una politica sulle mamme e poi c'è il discorso invece delle competenze specialistiche che è molto importante questo discorso che riguarda non soltanto le competenze specialistiche su questo bisogna lavorare c'è le CF e lo strumento di riferimento ma non soltanto per le competenze specialistiche quelle che chiamiamo degli specialisti informatici 40 profili eccetera ma andiamo a vedere quel discorso che abbiamo tutti insieme costruito prendendolo anche dall'Europa della e-leadership che però in sé cosa vuol dire vuol dire che tutti i responsabili e gli attori delle organizzazioni pubbliche e private imprese e istituzioni devono avere una grande quantità di competenza digitale ma non per fare dei programmatori ma per usare le reti digitali nella gestione se la gestione non è fatta attraverso l'uso delle reti digitali soprattutto tutte quelle grandi quelle imprese che stanno combattendo a livello internazionale che già hanno capito che devono operare con altri clienti e fornitori che operano già su reti digitali e quindi devono avere già questa competenza e se non ce l'hanno se la stanno costruendo però sono una minoranza rispetto al resto delle imprese e sono una minoranza rispetto anche al sistema delle pubbliche amministrazioni si diceva battuta prima con Antonello dicendo che le pubbliche amministrazioni forse c'è ancora la figura del camminatore voi sapete cos'è il camminatore quello che porta i documenti da un ufficio all'altro invece della posta elettronica no? è molto bello qui c'è il tapirulante allora è già un avviamento verso una tecnologia che può portare speriamo verso finalmente all'utilizzo della porta elettronica che poi non è l'ultimo confine anzi la porta elettronica un giorno non lo useremo nemmeno più va bene vi ringrazio molto grazie